è permesso eccomi dio finalmente mi hai chiamata bene dove devo firmare c'è un timbro no una firma e poi vado subito in paradiso giusto devo fare un provino di ma con tutta la fatica il sudore che ho fatto che coraggio c'ha di farmi fare un provino è grazie grazie e te che ci fai qua ma che dio scherziamo ma adesso io mi devo contendere il paradiso con questo trombone ubriaco che non lo sai perché siamo qui beh perché questo è un processo animatatorio si chiamavano così no perché a dio non gliene frega niente che noi ci siamo consumati per il teatro e a lui l'interessa che abbiamo lasciato dietro quello gli interessa mogli madri figli sorelle fratelli a mano come vibrate una volta mi viene la tremarella ballando il cer sembra che suoni una tumba muovendo le mie mani davanti a te si oro col dito la bocca poi crociò le mie braccia qui sul mio cuore e mentre dimentico il mondo un bacio io ti mando con tanto amore senti dio io almeno mamma lo sono stata lo sono stata in tutti i modi che ho potuto non mi chiedi di essere nobile mi sfacci la cintura mi lasci rinunziare beh sì io direi che con lei un pezzettino di paradiso me lo sono anche meritato ecco ricordati ragazzo mio ricordati sai cosa sono io sono l'unice dipinto una carta che non sta nel mazzo buona per nessun gioco sai camminare di netta è difficile sai accompagnare un cielo ma sai l'amor cos'è ricordati ricordati ragazzo mio ricordati che le parole baciami stringimi fanno poi soffrire non credere non piangere dimentica sorride al tuo destino ragazzo mio ricordati 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 perché per me questo lavoro è importante io non posso farlo come te che hai lavorato con cani e porci a me della piscina e del campo da tennis non me ne fregava niente manco dei festini che nignote che te facevi coi tuoi amici monicelli villaggio ottoniazzi che giusto cani gatti tartarughe pesci rossi galline ti potevano stare attorno l'artista trombolo ubriaco fasollo ipocrita non si recita per guadagnarsi il pane si recita per mentire per smentirsi per essere quello che si è o perché se ne abbastanza di essere quello che si è si recita perché per conoscere se stessi o perché ci si conosce troppo si recita parti di eroi perché siamo dei codati parti di... di santi perché siamo dei peccatori e parti di... gli assassini perché... senti Dio io sto cominciando seriamente ad andare mi posso fumare? vorrei tanto fumare una sigaretta e mi lasciarmi un altro ma non mi schienerebbe bene il paradiso tu vivrai se tu soffri quel che hai non ti accorgi che io amo già te la vita è così tu quando non hai puoi avere di più e dopo che hai ti accorgi che tu fermarti non puoi e vuoi quel che vuoi la vita è così la vita è così tu adesso mi vuoi soltanto perché non cerco di te ti accorgi che mi ha detto che non è così che ti accorgi che non c'era Grazie a tutti.